Ha debuttato allo Zoo di Santa Fe di Antiochia, a circa 58 km da Medellini in Colombia, un piccolo di scimmiaragno, così chiamata per la sua agilità, specie di primate raro ad alto rischio di estinzione. Il suo sesso non è ancora chiaro e pertanto il neo arrivato non ha per ora un nome. Catalina Dias, coordinatrice della fauna e della flora, allo Zoo di Santa Fe spiega. Questa specie è gravemente minacciata di estinzione, secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Appartiene alle 25 specie di primati più minacciate al mondo, vivono tra la riva del fiume Magdalena in Colombia e in piccole zone del Venezuela. Non sappiamo ancora se sia un maschio o una femmina e non lo sapremo probabilmente prima di due o tre mesi, aggiunge, perché non vogliamo separare il piccolo dalla madre se non c'è una necessità medica per farlo. Il cucciolo è nato domenica 9 settembre, un chilo per circa 20 cm di lunghezza. Si tratta del terzo esemplare di scimmiaragno nato dal 2012 in questo zoo.